Ciao e benvenuto a questo secondo un tuo video di oggi Bene, qui invece ti parlo di un concetto differente Qui ti parlo di tenere una nota Di tenere una nota e di cantarci sopra È un esercizio, diciamo, per fare solo un accordo Senti, e puoi cantarci sopra quello che vuoi Tieni la nota L'unica regola dell'esercizio è tenere la nota continua, legata Fare tra una nota e l'altra, la nota deve essere legata Come se fosse un vortice, un vortice che continua Senti, questo è un sistema, questo è un esercizio Fare con gli accordi, quello che vuoi Però un accordo, provi la scala E serve anche per intonare la nota La voce all'accordo Puoi fare quello che vuoi, cambiare il ritmo, le energie E per creare melodie, tenendo un accordo sotto come base per tenere la nota Ciao, prossimo video